in questo breve video parleremo dei fatti avvenuti nel giorno della risurrezione di gesù che noi festeggiamo come pasqua cristiana il giorno dopo il sabato alcune donne recandosi di buon mattino al sepolcro trovarono che la pietra che lo chiudeva era stata rimossa videro che la tomba era vuota e che il lenzuolo in cui era stato avvolto il corpo di gesù giaceva ripiegato in un angolo inizialmente le donne pensarono che il corpo di cristo fosse stato trafugato e non sapevano cosa fare mentre piangevano apparvero loro due uomini in vesti splendenti che dissero perché cercate tra i morti colui che è vivo infatti nel giorno di pasqua celebriamo gesù che risorge dalla morte in quello stesso giorno cristo si manifesta da alcuni suoi amici discepoli come vedremo nelle prossime immagini la prima persona a cui gesù risorto si manifesta è maria di magdala una delle donne recatesi al sepolcro che riconoscendo l'esclama rabbuni ossia maestro gesù poi appare anche a due suoi discepoli che erano in cammino verso un villaggio di nome emmaus e che lo riconoscono solo quando riunitisi per la cena egli benedice il pane lo spezza e lo distribuisce i due quindi si recano subito a gerusalemme per raccontare agli altri discepoli tra cui gli apostoli ciò che avevano visto mentre erano tutti riuniti appare nuovamente gesù risorto dicendo pace a voi e mostrando loro le mani ai piedi con i segni della crocifissione sappiamo inoltre che dopo il giorno della risurrezione gesù si mostra ai suoi amici discepoli per altri 40 giorni